La linea è totalmente abbandonata e indecorosa, un bosco di rovi e serpaglia, abitato di animali a ridosso di molte abitazioni e giustamente i cittadini si lamentano. Non guardare la realtà significa peggiorare le cose. Ne ha convinto Stefano Puolegioni, deludici fano, intervenuto oggi a Cucurano, sull'ex ferrovia Fanurbino, chiusa al traffico ormai 35 anni fa. Puolegioni, fino a pochi giorni fa alle sue spalle c'era un vero e proprio bosco? Assolutamente sì, questo mi viene da intitolarlo non solo via regolo, perché finalmente qui abbiamo raggiunto un obiettivo. Io insieme al mio partito, all'Udc, ci siamo interessati di questa situazione, sono venuti a pulire anche se hanno scelto il momento sbagliato perché le piante non vanno tagliate di questo periodo. E però qualche piccola luce in fondo a un tunnel si è vista, però, ripeto, non solo via regolo, esiste tutta la tratta che costeggia poi il centro, il comune del nostro territorio di Fano, che è in totale degrado e va pulita. Io vorrei lanciare un appello alla delegata, all'amministratrice delegata di Ente Ferrovie, la dottoressa Fiorani, perché lei ha risposto no a farci qualcos'altro su questo sedime, parlo della pista ciclabile, utilizzando ormai il solito alibi che questa linea è scritta nel registro governativo delle tratte da riattivare. Però bisogna guardare in faccia la realtà. Questa tratta nel comune di Fano interessa 18 punti di passaggio, un punto è stato addirittura tranciata, io parlo della Statale 16, parlo di Via Papiria, parlo di Via Canali Albani e tanti altri punti, quindi è impossibile riattivare la ferrovia in questo sedime attuale. Infatti, ha ricordato Poligioni, lungo la tratta ci sono da ristrutturare 7 gallerie e 25 punti, ma soprattutto 97 passaggi a livello da superare, dei quali 56 pubblici e 41 su strade private. Mi auguro, aggiunto, che responsabile di RFI, a cui ho più volte chiesto formalmente di intervenire, abbia un programma di intervento che riguardi tutto il tracciato comunale ed attuari prima dell'estate per non correre rischi di incendi. Riguardo invece all'ordinanza per la pulizia della tratta, Poligioni invierà una lettera anche al prefetto di Pesaro Urbino. Siccome non può essere riattivata lungo questo tratto comunale, cade nel degrado e noi ci ritroviamo con vegetazione, folta a ridosso delle abitazioni, oltre che poi diventano anche niti di animali, eccetera, eccetera, come lo era stato qui in Via Recolo. Quindi chiedo, intanto che ci sia un intervento di pulizia e che sia un intervento annuale, messo in un programma proprio annuale, perché voglio ricordare all'ente ferrovia che è responsabile di tutto questo, che lungo questa tratta ci sono molte abitazioni e ci sono molti cittadini che ci abitano. Edgardo, lei abita qui? Che tipo di disagio vivete annualmente? Sì, prescindere il disagio che è lo sporco. Gli animali, gli insetti, non puoi stare in giardino perché le zanzare ti mangiano, oltre a qualcosa di più grosso che io sono stato a punto che ho dovuto ricorrere all'ospedale. Da che cosa si posso chiedere? Un calabrone, un calabrone, che qui venendo di sera sul tramonto, se ci si avvicina la strada, in mezzo là si sente il rondio. Dovevano pulire, se questa è pulizia, io non lo so, a voi avete le immagini che parlano forse più chiaro. Questa è una bomba, quest'estate è una bomba. Anche perché hanno coperto la canalina di scolo? Hanno coperto la canalina di scolo, che adesso grossi temporali non ce ne sono più, ma noi siamo in passato, siamo stati allagati, è arrivata l'acqua in casa, è arrivata. E questa la chiamano pulizia, la RFI, io sono contento per loro. Come pulire in casa e buttare la polvere sotto il letto? E invece di un eventuale ripristino della ferrovia o di un trenino turistico, che cosa ne pensi? A noi interessa solamente che loro la tengano pulita. Poi se la vogliono dare in gestione, vogliono fare una pista ciclabile, vogliono mettere il treno, a noi non ce ne frega niente. L'importante è che la tengano pulita. E poi sulla pulizia non sono arrivati nemmeno nella proprietà loro, perché si sono fermati a scoprire il binario e basta. Là è tutta roba loro.